benvenute e benvenuti a tutti mentre aspettiamo che le ultime persone entrino e si accomodino gli ospiti sono arrivati ci siamo quindi direi che iniziamo un po' questa serata io sono Giona e con me c'è Emanuele e proveremo siamo qui per provare di mediare e condurre un incontro che è atteso da un po' di tempo parleremo di giovani di social di linguaggi di chiesa di cose che funzionano molto bene altre che funzionano un po' meno bene e lo faremo con due grandi ospiti che poi vi presenteremo anche se li conoscete molto bene prima vorremmo lasciare la parola a chi questo incontro l'ha organizzato e l'ha voluto e quindi chiamerei Don Giovanni che è responsabile della pastorale giovanile e che insieme alla famiglia salesiana appunto ha curato l'organizzazione dell'incontro io ora solo veramente un saluto velocissimo intanto ringrazio sia il nostro vescovo che Don Alberto ma anche due presentatori che due giovinastri Emanuele oltretutto ha un'esperienza su youtube vi invito ad andarla a vedere lui si sminuisce però in realtà lavora e lavora bene Giona invece fa l'educatore da tanti punti di vista e niente davvero grazie a voi di essere venuti come diceva Giona è stato il desiderio di avere una sera quella di San Giovanni Bosco da valorizzare tentando un po' di lasciarci stimolare ecco sicuramente Don Bosco ha tantissime cose stupende una di queste sicuramente è sapere ha saputo stare accanto farvi vedere che non è l'età visto che magari qualcuno diceva ma sono venuto qua anche se sono vecchio no non è questione di età ma è questione di cuore allora davvero buona ascolta a tutti e poi basta a voi la parola è un applausone bene allora come diceva Giona passiamo ora alla presentazione degli invitati anche se non ce ne sarebbe bisogno però la facciamo 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 un ripasso esatto non ha bisogno di presentazioni ma sua eminenza Matteo Maria Zuppi che stasera chiameremo Don Matteo se è d'accordo è d'accordo molto bene è nato a Roma 67 anni fa quinto di sei figli ordinato prete nel 1981 dal 2015 arcivescovo metropolita della nostra diocesi e dal maggio 2022 presidente della conferenza episcopale italiana quindi direi di fare un bel applauso per il nostro arcivescovo e poi abbiamo Alberto Ravagnani Don Rava per gli amici io adesso leggo tutto di filo per non sbagliare nasce nel 1993 a Brugherio viene ordinato sacerdote nel 2018 e oggi è coadiotore dell'oratorio San Filippo Neri della parrocchia San Michele Arcangelo di Busto Arsizio noto a noi e al resto del mondo per i video su youtube dal tempo della pandemia da quell'esperienza online di relazioni è nata l'esperienza on life della fraternità comunità di giovani desiderosi di essere sale della terra e luce del mondo da questa presentazione due considerazioni la prima è come si chiamano gli abitanti di Busto Arsizio che è una parola difficile per chi parla al bolognese perché ci sono due S e una Z e si fa una fatica è complicato buonasera a tutti intanto ciao bello essere qui ancora due volte in tre giorni non ho mai stato a Bologna e invece mi mancano però le cose quelle culinarie ancora da provare però allora gli abitanti di Busto Arsizio è un po' complesso sono Bustocchi coloro che risiedono a Busto da più di tre generazioni mentre Bustesi coloro che risiedono a Busto da meno di tre generazioni e poi ci sono gli stranieri tipo me e tanti altri che sono capitati lì e la seconda considerazione è vero che sei nell'anno dei trenta dei trent'anni quello dei mali alla schiena eccetera arrivano per tutti eh ok molto bene iniziamo questa serata sicuriamo Gitti 67 cercando di rompere un po' il ghiaccio abbiamo preparato delle domande un po' segrete che a turno Don Matteo e Don Alberto pescheranno e si faranno l'un l'altro io non so chi di voi voglia iniziare io vado sempre in ordine alfabetico mi sembra giusto no? in ordine alfabetico andiamo devo farla io? a Don Matteo? ok esattamente allora mi dispiace qual è la cavolata più grande fatta da giovane? a tu a me? eh sì me l'ho distratto tanto pensavo interrogava lui quindi non ho credito ripeti scusami la domanda qual è la cavolata più grande fatta da giovane? eh c'è l'enciclopedia però vediamo la più grave la cavolata più grave sì beh direi proprio la più stupida sì non so se la più grave che stavo andando a scuola ci avevo stavo in terza media quindi proprio io stavo un anno avanti quindi ci avevo 12 anni e mezzo 12 anni un po' più di 12 anni e ho litigato col mio migliore amico stavamo andando a scuola assieme perché ero proprio un amicone e gli ho dato un calcio come potevo e poi sono scappato la cavolata dov'è? vabbè già questa è un po' una cavolata eh di per sé che noi eravamo compagni di banco per cui è arrivato chiaramente al banco ecco e lì ho capito che fare a botte è sempre stupido perché poi ci siamo trovati diciamo fianco a fianco e chiaramente gli ho chiesto però devo dire che gli ho chiesto scusa perché poi è una cosa direi sicuramente è una delle più stupide che ho fatto non l'unica adesso Don Matteo invece pescherà una domanda da fare a Don Alberto io speravo fosse il contrario la cosa qual è stata la cosa più bella della tua giornata di ieri? oi boh allora ieri ieri abbiamo celebrato la messa di San Giovanni Bosco con tutti i ragazzi della città di Buster Sizio ma è successo che dopo la messa siamo tornati a casa e un ragazzo ha voluto parlarmi e si è raccontato tanto 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 ha parlato in particolar modo del rapporto con sua mamma abbastanza difficile mamma un pochino opprimente che sta un pochino addosso forse tanto forse troppo ed è successo questo che mentre stavamo parlando lei chiama e e quindi tutti i problemi diciamo così della della loro vicenda in qualche modo vengono a galla ed è stato tremendamente liberante per questo ragazzo perché non riusciva a parlare di questa cosa che gli capitava e invece la provvidenza ha voluto che avesse fatto la figuraccia davanti a me che però poi è servita per capire cosa non andasse e oggi ha deciso di parlare con sua madre e tante cose si sono risolte questo dai allora qual è la cosa che ti piace più fare? in assoluto? eh chiedela loro in assoluto vabbè togliamone alcune così quelle così a me quello che piacerebbe piace fare di per sé ma a me piace fare il prete devo dire che ringrazio tanto il signore non ho dice ma no ma c'era chi mi ha fatto fare per cui devo dire che la cosa che mi piace fare di più e di queste di per sé la cosa che mi piacerebbe di più è fare il parroco o tornare a fare il parroco che è la cosa che mi divertivo tantissimo tra le cose che fa il parroco ascoltare ascoltare le persone questo devo dire che non soltanto non mi costa cioè qualche volta a portarti la sera si cioè vabbè tengo su con gli stecchini ma però è la cosa che perché quello che diceva Alberto è che poi uno scopre l'altro si appassiona si commuove si arrabbia però è sempre un grande legame porteremo questa sua richiesta al presidente della CEI di farla diventare parroco se lo trovo allora domandona per Don Alberto ma chi le ha fatte queste domande allora la domanda per Don Alberto è la seguente un fallimento pastorale con i giovani ah l'enciclopedia sì effettivamente sì allora ero arrivato non da moltissimo in parrocchia problemi con gli adolescenti che non volevano venire agli incontri del lunedì sera e quindi prima di entrare in oratorio il giorno dell'incontro temporeggiavano fuori dal cancello quindi protraevano ben oltre l'orario di ingresso la loro entrata e quindi un giorno mi ero proprio indispettito perché li sentivo che erano fuori dall'oratorio il cancello era già chiuso perché l'incontro era iniziato e loro erano fuori e ce ne erano fuori tre quattro che sentivo che parlavano e quindi mi sono messo ad ascoltare dietro al cancello le loro conversazioni ed è stato molto interessante mentre stavano facendo su una canna stavano parlando di dove avessero preso la roba quanto costasse ma chi era lo spacciatore migliore della scuola cosa ne pensavano degli incontri e tutte le espressioni colorite che condivano questi bei discorsi allora io ho detto questa è un'occasione d'oro mi sono messo sulla vestita della detective allora ho registrato la conversazione da fuori dopo li sgamo quindi ho registrato tutto a un certo punto quando erano proprio sul più bello ha detto adesso andiamo al parco a fumare ho aperto benvenuti ragazzi venite venite vi aspettavo quindi li ho portati dentro li ho portati in studio e ho fatto sentire la registrazione e allora sono rimasti di sasso in realtà uno si è si è sentito punto sul vivo perché ha sentito le parole brutte che uscivano dalla sua bocca e devo dire che gli è servito qualcun altro è mutolito non ha risposto qualcun altro si è arrabbiato tanto tu come ti permetti tu non ti fidi di noi questa cosa non la puoi fare ma chi sei e niente io faccio quello che voglio eccetera eccetera e quel ragazzo lì poi non l'ho più visto effettivamente quindi la mia intenzione era buona cioè volevo perché io la situazione era veramente drammatica ormai avevano preso una piega questi quindi dicevo o li becchiamo oppure ciao io ci ho provato ma in realtà non è andata per il verso giusto questo facciamo l'ultimo giro quindi tocca a me l'ultima domanda dopo facciamo anche a Don Matteo qual è la prima cosa e questo è facile qual è la prima cosa che farai domani mattina oltre diciamo così i lavaggi d'uso speriamo eh dico vero li diffondiamo quelli servono la prima cosa è pregare anche perché dopo dopo cominciano molte altre cose per cui dopo appunto i lavaggi d'uso dunque sì la preghiera la preghiera in realtà forse c'è prima se riesco leggo qualche giornata se riesco se non è tardi perché poi c'è tempo e il tempo allora mi guardo i titoli se no la prima cosa è che faccia la preghiera ultima domanda ma come ok qual è beh anche questa è facile però è impegnativa qua bisogna studiare molto qual è la tua squadra del cuore allora io ero milanista poi ho perso la fede e quindi non ero un buon credente fin tanto che vinceva ero il fan numero uno poi quando ho iniziato un po' a perdere quando è andato via Ancelotti Shevchenko Cacca quella gente lì no basta poi non ho più non ho più praticato diciamo i tempi attuali poi mi dicono mi dicono però questa è una domanda bonus perché mi dicono dalla regia che va fatta anche a Don Matteo quindi qual è la sua squadra del cuore io davvero dico purtroppo non so mai tu sei stato allo stadio no anche tu no mai dobbiamo andare assieme allo stadio dagli perché io non sono mai andato allo stadio in vita mia perché non mi è mai capitato non perché dice no non ci voglio andare no proprio non è mai capitato per cui non è che proprio poi però ho fatto il parroco per tanti anni a Trastevere a Trastevere quando la Roma ha vinto lo scudetto l'ultimo è stato nel 2002 credo avanti Cristo chiaramente nel 2002 addirittura fecero una settimana di festeggiamenti vennero perché è esattamente a stelle c'è un bellissimo campanile a Don Mattei devi suonare le campane abbiamo eccetera io no a Don Mattei mettiamo lo striscione se abbiamo vinto lo scudetto è nostro campioni cantavano sempre una cosa i campioni siamo noi i campioni siamo noi no io ho detto no dai ma che sei laziale era il massimo diciamo la cosa ecco dopo di che niente per quelli chiaramente insomma ero più romanista adesso sono a Bologna quindi rigorosamente rosso-blu molto bene comunque andiamo andiamo allo stadio a vedere Bologna Milan vediamo io andiamo come potrebbe finire però va bene molto bene ora passiamo invece a delle domande mirate quindi faremo una domanda a testa dopo la risposta l'altro potrà aggiungere qualcosa se ritiene di poter contribuire inoltre alla vostra destra alla vostra sinistra trovate un numero di telefono incollato sulle colonne è il numero a cui potete mandare un whatsapp per delle domande le domande verranno raccolte e poi alla termine dell'incontro a seconda del tempo rimasto potremo proporle ai nostri ospiti il numero comunque è 351 75 50 809 donate no non è vero non donate niente allora prima domanda per Don Alberto giriamo per un momento la telecamera verso il nostro pubblico e la domanda è come vedi i giovani d'oggi se dovessi fare un video da postare su di loro cosa metteresti quali spezzoni che hai vissuto con loro e che magari sono realmente nella tua galleria del telefono la prima che vedo è la suora perché è vestita di bianco però oltre alla suora vedo tanti ragazzi e anzi mi fa piacere vedere tanti ragazzi e ho a che fare tanto con i giovani dalla mattina alla sera sono un prete d'oratorio e noi a Milano abbiamo gli oratori dove i preti hanno la fortuna di abitarci dentro quindi la mia casa è dentro i campi quindi un ingresso sul campo da basket un ingresso sul campo da calcio mi lascio immaginare le mie giornate dietro i campanelli apri chiudi entri esci il pallone le chiavi quindi sono in mezzo ragazzi credo che oggi se dovessi dire qualcosa sui giovani provare a dire quello che spesso non si dice quindi andrei al di sotto di quello che appare perché credo che ci sia tanta retorica sul mondo giovanile che poi non tiene conto della realtà e quindi ad esempio direi che i giovani di oggi soffrono tanto e in maniera abbastanza silenziosa e in maniera anche abbastanza inascoltata secondo me soffrono perché hanno il cuore tenero perché da ragazzi si soffre di più che da adulti ma non perché i mali dei grandi si valgano di meno ma perché da ragazzi si è sguarninti nei confronti della vita e quindi tutto accade per la prima volta e quindi è difficile far fronte alle sfide dell'adolescenza e della giovinezza ad esempio direi che i ragazzi soffrono perché spesso volentieri accanto non hanno adulti famiglie in particolare unite credibili cioè non sempre respirano amore ascolto in casa ma a volte neanche a scuola a volte neanche negli ambienti della chiesa e questa sofferenza diventa poi incapacità di essere espressa e questo è il vero problema quindi un ragazzo sta male a chi le dice le cose spesso i genitori non ci sono per motivi di lavoro spesso i genitori a volte non hanno strumenti per capire i problemi dei ragazzi di oggi che sono magari molto diversi rispetto ai problemi di prima e quindi ci troviamo a tanti problemi il covid ha dato una grande mazzata ai ragazzi e tanti hanno non si sono più ripresi mi viene da dire il numero di cioè c'è una tristezza latente che poi assume tante forme mi ricordo un giorno il giorno in cui era scoppiata la guerra era un giovedì io avevo portato un ragazzo a scuola che era in vita comune quindi avevo già l'umore malandato per la guerra che sentivo per la radio torno a casa e si presenta una ragazza dell'oratorio di quarta superiore che mi si butta addosso abbracciandomi in lacrime e dicendomi questa mattina una ragazza di prima dieci minuti dopo il suono della campanella è andata in bagno e si è buttata giù e questa ragazza era la più bella della classe la più brava a scuola quella con i risultati sportivi migliori eppure sotto era molto triste c'era qualcosa che non andava e forse non riusciva a trovare nessuno a cui poter raccontare queste cose io sono costantemente di fronte a ragazzi che hanno problemi con gli adulti che dovrebbero accompagnarli e poi questi problemi diventano o prendono altre forme e quindi per compensare delle mancanze d'affetto e d'amore allora ci si attacca ad altro ci si attacca ad esempio a sostanze di vario tipo e questa non è la solita retorica degli adulti sulle sostanze sull'alcol no perché io le vedo le persone perché ho a che fare con i ragazzi e so che a un certo punto tanti ci rimangono e vedo il fallimento educativo dei genitori di fronte dei ragazzi che a un certo punto entrano in certi giri e poi non escono più ma non solo quelli che poi si perdono e che hanno poche speranze di uscirne ma anche quelli normali che però a un certo punto sentono il bisogno di attaccarsi a qualcosa per evadere da una vita che non piace loro e quindi le canne l'alcol e sabato sera ci sono tante forme di dipendenza mi sento di dire che la cosa che non si dice oggi è che la sessualità è la fonte di sofferenza più grande dei ragazzi vissuta con tanta disinvoltura senza strumenti come se fosse giusto vivere e sperimentarsi in maniera quasi compulsiva per dimostrare a se stessi o agli altri che sia dentro un cliché che tu sei bravo perché fai come devi fare no? un tempo c'erano dei tabù sulla sessualità ora ci sono le stesse tabù ma al rovescio prima era no no per carità ma mai non si fa adesso bisogna farlo se non lo fai sei sfigato e questo che era tantissima ansia da prestazione da parte di molti e quando poi il corpo che parla che comunica la nostra anima si compromette col corpo dell'altro e magari non si è capaci non si capisce questa cosa crea delle ferite che poi uno si porta dietro per sempre e quindi dipendenza dalla pornografia dalla masturbazione dai rapporti occasionali e ripeto li conosco i ragazzi che tanti hanno la testa per aria e gli dicono ma cosa stanno pensando? dove hanno la testa? perché non concludono niente durante il giorno? perché sono così stanchi? beh spesso volentieri il motivo è una dipendenza sessuale a vari livelli che porta via tante energie che li fa evadere quindi la loro immaginazione è molto segnata e quindi di fatto pensano sempre ad altro e fanno fatica ad essere lì nel momento presente e di questo nessuno ne parla perché non ne puoi parlare cioè non puoi dire che ti ha fatto problema vivere la sessualità in una certa maniera non puoi dirlo perché non è socialmente accettato però questa è sofferenza e a chi la raccontano a chi la consegnano il mondo adulto a volte non ha gli strumenti è solamente no no non si può farlo oppure hai sbagliato oppure peggio ancora ma sì ma non c'è nessun problema no ma tranquillo fai come vuoi anzi è giusto che fai le tue esperienze e ti diverti senza poi degli strumenti effettivi questo lo racconterei ad esempio però racconterei anche le cose belle che nessuno dice è che nel momento in cui i ragazzi hanno un contesto relazionale bello nel momento in cui hanno degli adulti credibili di fianco nel momento in cui si dà loro un sogno comune oggi si fa la guerra oggi ci sono delle battaglie politiche e sociali per dire che ciascuno di noi deve essere diverso io sono diverso io sono unico e la mia unicità deve essere rispettata da tutti credo che la cosa che dovremmo fare è proporre delle visioni insieme delle appartenenze grandi io di chi sono a chi appartengo a quel punto posso capire chi sono beh quando questo accade i ragazzi hanno un coraggio pazzesco hanno delle risorse meravigliose i ragazzi che ho l'onore di seguire in oratorio sono delle persone straordinarie che stanno facendo la differenza a scuola a casa grazie a loro le famiglie divise si ricompongono grazie a loro le classi dove non ci sono rapporti tornano ad aprirsi ad una fraternità che vive anche sui banchi di scuola e poi tornano a sognare in grande per la chiesa cioè nel momento in cui si è credibili con loro loro tirano fuori delle risorse pazzesche e forse tanto più il mondo adulto si mostra fragile tanto più loro se adeguatamente accompagnati si mostrano fortissimi tanto grazie per la risposta e prima di far aggiungere qualcosa Don Matteo mi sono dimenticato di spiegare una cosa abbiamo una clessidra che darà il tempo agli interventi per riuscire a fare tutte le domande errore mio ho dimenticato di dirlo e quindi abbiamo cinque minuti a intervento comunque Don Matteo se vuole aggiungere qualcosa su come vede lei i giovani d'oggi no le cose che ha detto Alberto sono tante e importanti forse una cosa generale però perché poi non è che i giovani vivono un mondo loro appunto vivono come loro secondo quello che sono nel mondo di tutti e non dobbiamo dimenticare che abbiamo vissuto il covid con tutto quello che ha significato che indubbiamente è stata un'esperienza fortissima isolamento di non poter fare le cose di sempre anche di sofferenza io non so quanti di noi hanno avuto direttamente l'esperienza di non aver più visto il nonno la nonna o di aver avuto soltanto le videochiamate cioè da una parte e in questi mesi tra poco sarà un anno di guerra poi uno un po' pensa che come era il covid andrà tutto bene poi si è accorto che non è vero che andrà tutto bene e la guerra che è guerra poi possiamo cambiare immagine possiamo andare a vedere subito le notizie sportive e non io sono ancora sul giornale forse più che il giornale diciamo così andare a cercare solo le notizie sportive e non quelle appunto che oppure andare a vedere come se fossero come se fosse un videogioco diciamo così perché a me colpiscono alcune delle immagini cerco di guardarle con molto pudore perché poi lì c'è la gente c'è gente che muore e a me colpiscono quelle cose tipo i droni che ammazzano quello che sembra una cosa irreale incredibile no? e sembra quasi un videogioco e qui ci muore la gente cioè muore uno un po' più grande di me oppure potrebbe morire mio figlio potrebbe morire il mio nivote no? e questo ci crea tanti problemi comunque e poi l'altra cosa però che volevo sottolineare del discorso di Alberto e sono molto d'accordo sul discorso diciamo del del fare delle cose perché e poterle fare come se questo mi fa star bene e poi uno si accorge che non è così la sofferenza che diceva Alberto lo condivido per cui diciamo così un mondo di adulti che ti dice con paternalismo fai come vuoi no? non ti vuole bene come non ti vuole bene uno che ti dice delle cose che non c'entrano niente che non capisci ma il fare come ti pare non ti fa bene non è vero che fa bene qualche volta al contrario mi fa vivere male mi fa vivere con tanta sofferenza e se io non imparo a voler bene per esempio no? e io posso fare anche il come si chiama il concorso a premi quante ragazze o quante ragazze ho perdo il premio non capisco più quello che diceva sulla sessualità lo condivido molto no? perché poi il vero problema è imparare a voler bene è un'altra cosa adesso diciamo così tendenzialmente non è che insomma e poi tanti problemi tante sofferenze eccetera e l'ultima cosa che sottolineo di Alberto è qualcosa che ci unisce cioè se gli altri ti dicono devi essere te stesso poi io non so chi sono faccio fatica mi guardo allo specchio riguardo mando non capisco eccetera eccetera io credo che il sogno che diceva Alberto è nel pensarsi invece insieme in cui io trovo me stesso perché trovo gli altri trovo me stesso perché trovo una cosa per cui vale la pena essere me stesso per cui vale la pena essere migliore per cui vale la pena essere amici imparare a volersi bene ecco questo credo che sia è verissimo per tutti per tutti a tutte le età penso che il corso dei giovani è davvero ancora più importante perché anche io condivido che c'è una una forza anche straordinaria e anche una voglia un desiderio straordinario di guardare al futuro molto bene grazie mille intanto per questa prima domanda passiamo ora alla seconda invece per Don Matteo a cui dopo Don Alberto potrà aggiungere in che cosa il linguaggio della chiesa le sembra allontanare i giovani più che avvicinarli e dove invece vede esperienze belle di dialogo e di incontro dunque il linguaggio della chiesa diciamo diciamo tutti che qualche volta noi riusciamo la chiesa a rendere difficile incomprensibile noioso astratto la cosa più bella che c'è perché io penso che il Vangelo è la cosa più bella che c'è perché parla di me parla di noi parla della mia vita parla della nostra vita mi aiuta a capire mi allarga il cuore mi coinvolge mi fa sentire il motivo per cui vale la pena fare delle cose cambiare cercare mi fa accorgere degli altri mi fa scoprire delle cose che ho dentro che in realtà un po' per paura un po' per pigrizia un po' perché le trovo soltanto quando ecco e qualche volta la chiesa parla del Vangelo come se fosse una roba lontana imparliamo del Vangelo come se fosse una cosa che devi fare ma non non capisci perché c'entra con me non parla a me non parla al mio cuore parla in maniera astratta è come come che ne so al supermercato gli annunci delle pubblicitari o qualcuno che ha atteso in cassa capito e non è che ti scalda il cuore non so voi che dite oppure alla stazione che sta per arrivare il treno e invece appunto una comunicazione di di gioia e personale ecco diciamo così questo credo che noi facciamo dobbiamo tanto cercare ecco come come io penso che stasera diciamo così è una bellissima risposta poi ce ne abbiamo tanti io credo che che ne so per esempio alcuni campi quando io vado sono andato in qualche campo delle nostre comunità delle nostre parrocchie beh lì si capisce di più la vita la chiesa la comunità il vangelo l'esperienza con gli altri si capisce che è qualcosa che c'entra con la mia vita che la cambia che la apre che mi fa accorgere del mondo intorno perché penso che il vangelo la chiesa è amicizia è comunità e quando la viviamo così beh il vangelo è più vivo il vangelo parla di più a me e poi penso che degli incontri come quello di questa sera in cui parliamo delle nostre cose parliamo della nostra vita parliamo come siamo beh credo che sì è esattamente il contrario di un linguaggio che è lontano che è poco personale e appassiona poco coinvolge poco e il vangelo invece è una storia d'amore una storia d'amore che non coinvolge non lo so cioè è proprio la cosa peggiore che possiamo fare grazie don Alberto aggiungere qualcosa penso che il vangelo comunicato con gioia personalmente dentro un rapporto umano abbia la possibilità di cambiare poi la vita delle persone però oggettivamente c'è un problema di linguaggio nella chiesa che non è dovuto alla cattiva volontà di chi comunica cioè non ci sono non è che siamo ci sono i cattivoni quelli antipatici quelli che fanno apposta per tenere lontani i ragazzi credo piuttosto che questo sia un problema di questo tempo il mondo è cambiato e forse in un certo senso è anche cambiato il linguaggio o il modello della comunicazione prima forse la comunicazione era passare un contenuto da da un mittente a un destinatario cioè io ti devo dire delle cose e tu le devi ascoltare magari dall'alto e tu sei in basso e quindi magari tanta della comunicazione della chiesa sembra essere così era così però andava bene così cioè nel senso che il mondo tutto quanto era molto verticale dall'alto in basso l'istituzione verso il popolo però oggi il mondo vive la comunicazione in maniera diversa per cui comunicare non significa dire qualcosa da A a B attraverso degli strumenti che possono essere anche quelli più nuovi cioè possono essere i social i balletti cioè non è questione di quale modalità usiamo ma proprio c'è un modello di comunicazione per cui credo che invece comunicare significhi avvicinare attraverso le cose che comunichiamo e il modo in cui comunichiamo le persone l'una all'altra per cui il senso della comunicazione è avvicinarsi quindi come la chiesa può comunicare ai ragazzi avvicinandosi ai giovani perché i giovani si avvicinano a lei cioè dentro una reciprocità io mi avvicino a te e tu ti avvicini a me quindi non è che gli adulti devono scadere in basso calare le braghe far fin di essere giovani perché così almeno andiamo verso i ragazzi al contrario forse occorre anche aiutare i ragazzi a venire su a crescere ad avere un linguaggio una visione della realtà più da grande però allo stesso modo anche i ragazzi comunicando devono sono chiamati a portare gli adulti l'istituzione la chiesa la liturgia quant'altro verso di sé in modo tale che poi si verifichi un incontro e a quel punto le cose che comunichiamo che sono il Vangelo cioè passa inevitabilmente per un incontro però occorre proprio credo cambiare mentalità da questo punto di vista grazie Don stiamo sempre su di te abbiamo intitolato l'incontro e se ti dico Dio è possibile dire Dio ai giovani oggi e soprattutto sui social e come? a voglia tantissimo perché c'è tanta richiesta di qualcosa di vero di qualcosa di bello di qualcosa di giusto d'altra parte però occorre trovare la modalità per dirlo e forse la prima cosa da fare è mettersi in cuore in pace e riconoscere che ancora una volta c'è un cambiamento epocale che a cui noi dobbiamo far fronte ora non vorrei sparare la grossa però che questo passato questo cambiamento d'epoca da verso la società post-moderna e della comunicazione digitale forse porta a consideri cambiamenti che sono grandi tanto quanto quelli dell'invenzione della stampa o della scrittura cioè è proprio un modo diverso di approcciarsi alla realtà cambia la percezione del tempo e dello spazio cambia il principio d'autorità ad esempio prima la chiesa poteva dire tutto e anche il contrario di tutto magari perché dall'alto aveva ricevuto il potere l'autorità mentre oggi i social non hanno questo non giudicano così la qualità e la verità delle informazioni che ricevono anche se tu sei il vescovo o il prete allora quello che dici conta c'è bisogno di autorevolezza i social sono molto democratici e questo forse è un problema per la chiesa però in realtà è così e quindi in realtà ogni situazione può essere un'occasione per Dio Gesù non ha avuto paura di niente ha avuto paura delle tradizioni dell'epoca degli usi costumi della sua gente anzi le ha sfruttate il suo vantaggio per poter parlare di qualcosa di eterno e quindi sicuramente Dio non ha paura dei social non ha paura di Youtube non ha paura di TikTok cioè sicuramente occorre imparare a vedere il bene e il male a riconoscere i rischi e le opportunità però di base credo che ci sia la necessità di renderci conto che è necessario cambiare completamente perché c'è un cambiamento d'epoca da affrontare d'altra parte però il cuore dei ragazzi è lo stesso cioè i ragazzi che comunicano oggi e comunque sono ragazzi diversi da prima hanno il cervello diverso rispetto a prima perché se uno cresce col telefonino in mano se uno impara la soglia di attenzione scrollando Reel e TikTok e dopo un secondo e mezzo decide se vale appena rimanere a contatto con quel contenuto cambiare certo che il cervello di una persona cambia però il cuore degli uomini è lo stesso e dentro dei linguaggi nuovi delle modalità nuove delle visioni diverse occorre poter parlare a ciò che è eterno e non cambia mai siamo tutti desiderosi di qualcosa che rimanga vogliamo tutti essere felici c'è bisogno di eternità nella vita di tutti desideriamo esperienze che durino per sempre vogliamo la fedeltà da parte degli altri insomma essere capaci di conoscere il cuore dell'uomo questo è segreto poi per poter utilizzare i social per dire o altri strumenti per dire in maniera efficace per dire quello che abbiamo sempre detto cioè la chiesa da sempre dice le stesse cose fondamentalmente no? si tratta di dirle adesso il Vangelo ha cambiato la vita di Pietro Giacomo Giovanni e può cambiare la vita dei ragazzi adesso io lo vedo nei miei ragazzi io vivo con ragazzi che hanno incontrato Dio a cui è stato comunicato in una maniera che loro potessero comprendere con uno stile di comunicazione adeguato a quello che stavano vivendo che passasse molto più per i sensi ad esempio per la corporeità per la condivisione delle esperienze per rapporti umani di amicizia di fraternità questo sì ho visto che forse questo è il modo migliore per parlare di Dio e poi nel momento in cui si sono sentiti interpellati basta hanno detto sì un sì fragoroso che sta cambiando la loro vita e sta cambiando la vita di tanti perché hanno incontrato lo stesso Dio di sempre in una maniera nuova e questo è sicuramente impressionante dobbiamo tornare a credere che Dio possa cambiare la vita dei ragazzi e non dobbiamo per forza inventarci cose strane eclettiche originali ad ogni costo anzi i ragazzi come diceva il Papa hanno un fiuto per la verità cioè si rendono conto ti sgamano se gli stai proponendo roba vecchia con un vestitino nuovo cioè ti sgamano se gli proponi un ballettino un cartellone un videino così giusto per perché perché in realtà si rendono conto che come dire a livello di fiuto proprio non sei veramente implicato in quello che stai dicendo finisco con questo i social network non sono solamente uno strumento ma sono un ambiente sono quasi il tessuto connettivo della società e quindi ancora una volta l'esperienza di evangelizzazione è un'esperienza di prossimità sui social bisogna starci per incontrare la gente non per dire delle cose nei momenti in cui i social li vediamo così e li abitiamo così allora anche sui social possiamo proporre lo stesso Dio di Gesù Cristo che si è sempre manifestato dentro dei rapporti umani che hanno fatto fiorire l'umanità di chi l'ha incontrato grazie Don Don Matteo se vuoi aggiungere qualcosa a questa domanda ci aggiungo anche una piccola domanda io che rapporto ha con i social parto da questo i miei rapporti con social è praticamente il whatsapp è social? sì è social? sì vabbè un po' social sono anch'io allora insomma qualche cosina me la cavo anch'io nel senso che ho whatsapp e basta non ce l'ho mai avuto non sono mai entrato da facebook il primo giusto dopodiché non ho mai avuto non ce l'ho mai avuto nemmeno la tentazione tra virgolette non dico non perché sia negativo non mi ci sono mai applicato ecco perché un po' perché punto diciamo ci sono delle comunicazioni che delle modalità capisco per esempio whatsapp lo uso tantissimo ed è effettivamente una comunicazione straordinaria utilissima devo dire due cose su quel discorso che faceva don Alberto il primo è verissimo qualche volta si fa un po' fatica a capire diciamo così perché il fiuto della verità è molto vero però ci sono certe fake news e certe cose che fai fare veramente fatica a capire il bidone cioè poi un po' ci perdi tempo ti sappiccica ti appiccichi insomma non è così immediato a mio parere che poi diciamo il mondo che appiattisce tutto è importantissimo quello che diceva Alberto che è democratico cioè che a un certo punto sei quello che sei mi spingono delle parole tra steverine che non posso ripetere ma insomma quello che sei è perché appunto eccetera e l'autorevolezza è molto importante te la devi guadagnare non c'è dubbio però è anche la navigazione difficile perché certe cose verosimili poi uno ci perde tempo poi deve capire poi non lo capisce poi dopo torna indietro poi alla fine boh ecco per cui c'ho due cose appunto una è questa la seconda cosa che ha detto Alberto Soltolino è verissima il problema non è fare i giovanotti cioè fa pena io penso che come dire come fare gli adulti cioè devo farmi stesso che un'altra cosa che è la cosa più difficile in verità fare i ragazzini a vita gli adolescenti a vita o fare gli adulti a 15 anni non fu il vero problema essere quello che sono e c'è due cose che voglio aggiungere una sulla rapidità che è pericolosissima che però credo che sia la chiave perché io dico qualcosa mi arriva qualcosa devo starci e chi ha detto e chi ha detto che devi dire sempre sì e no no io penso no ne sono libero se no ne sono prigioniero cioè molte volte c'è tu Alberto diceva prima la compulsività non so se l'hai detto l'ho sentito ma insomma comunque lo descrivevi bene per cui tu stai detto devi fare delle cose poi se non lo perdi oddio ho perso quello no l'hai perso niente direi io e stai attento perché la rapidità così la rapidità del digitale non corrisponde io poi sono appunto preistorico quindi cioè la rapidità mi frega perché poi io ci devo pensare devo capire aspetta un attimo perché poi le cose restano perché poi se io mando un video o mando delle parole o dico delle cose e mi feriscono come se sono vere capito che dico l'odio via internet oppure il video della ragazza che mi ha lasciato così gliela faccio lasciare io la faccio a tutti quanti e poi quello resta e sono cose vere però poi diventano ecco l'ultima cosa è sulla cioè io penso che io mi auguro che l'amicizia non sa mai Whatsapp io penso capisco il ragionamento di Alberto penso che sia verissimo però io penso che se sono amico uso davvero Whatsapp ma che che i miei legami siano gruppi Whatsapp che sono importantissimi io posso dire tante cose persone che mi hanno cercato curiosissime sono dei miei ex alunni che mi hanno ritrovato mi fa anche piacere figuriamoci no? ma se poi non li vedo non li sento non li guardo negli occhi non li capisco e quello è un inganno o perlomeno mi fa credere che non debbo mai far mancare la concretezza ecco questo è quello che penso io io ho bisogno dei sensi ho bisogno di guardare negli occhi ho bisogno delle mani ho bisogno della fisicità e la mia questa è la mia quindi la rapidità è questo per cui Whatsapp mi va benissimo tutto il resto ed è straordinario che effettivamente comunico tante cose eccetera ma se poi io vivo per comunicare come quelli che si fanno i selfie per far vedere che c'erano poi magari c'era un poraccio che stava male non l'aiuto per fare il selfie capisco che poi a un certo punto entri dentro qualcosa che ti condiziona allora io spero sempre che diciamo così la rapidità non mi renda disumano e che uso lo strumento ma non mi faccio usare dallo strumento e poi che insomma io se non guardo negli occhi Alberto non l'abbraccio vabbè ma gli mando un abbraccetto con non so come si chiamano con chi? un emoji dicono dalla regina quello lì ecco sentite a me non mi mandate l'emoji qua i mocchioni qua venite a darmelo che lo preferisco direi che possiamo fare un applauso ai nostri ospiti perché si stanno comportando molto bene siamo all'ultima domanda prima delle domande che stanno raccogliendo dal pubblico prima ci confrontavamo io e Manu e dicevamo che alla fine di un incontro quello che conta se un incontro è stato utile è se riusciamo a rispondere alla domanda che cosa mi porto a casa e credo che quest'ultima domanda si aiuti molto e quindi la facciamo prima Don Matteo e poi dopo chiaramente Don Alberto puoi aggiungere è una domanda a cuore aperto da capo dei vescovi italiani che cosa chiedi ai giovani? ripeti no sto scherzando che c'è un che c'è tanto da fare e che c'è un mondo da cambiare da rendere migliore disumano e che il sogno di cambiare questo mondo che è il sogno di Dio e che è la richiesta di tutti quelli che soffrono che vivono che sono le vittime di questo è un'avventura è un sogno come diceva prima Don Alberto è una passione è possibile ecco io direi che questo cambiamo questo mondo cambiate questo mondo combattiamo la guerra combattiamo l'indifferenza cominciamo sempre da chi è più debole perché questa straordinaria avventura che è la vita è bellissima e dobbiamo rendere ancora più bella e viverla insieme questo è il sogno di Dio direi che chiederei ai giovani davvero di cambiare questo mondo e di renderlo pieno di umanità e non di violenza e di e di indifferenza grazie grazie Don Alberto vedo che ciò che fa la differenza nella vita di un ragazzo è la sincerità quando uno si mostra sincero e apre il cuore racconta di sé toglie le maschere fa entrare la luce smette di pensare alla vergogna che prova rispetto a quello che ha fatto o non ha fatto oppure mette da parte l'orgoglio che gli fa omettere certe questioni allora iniziano i percorsi davvero interessanti tutto parte nel momento in cui entra la luce se uno si fa a voler bene ma anche poi i percorsi più grandi tutti tutti siamo figli di Dio creature amate tutti siamo prodigi però se uno non decide di rompere le barriere se uno non decide di far di tutto per essere vero autentico per accedere al potenziale infinito che ha dietro menzogne nascondimenti dietro il sottrassi alla responsabilità di un confronto più grandi ad esempio non accade niente non accade niente tutti volete essere felici quando siete ragazzi ma non è detto che tutti diventiate felici perché la gente non diventa felice perché gli adulti si imbruttiscono perché gli adulti si incattiviscono perché secondo me perché si sono incattiviti perché si sono stati prigionieri di loro stessi e quindi quando uno trova un padre una madre che lo ascolta e si confida quando uno trova un prete e si confessa quando uno trova un amico e si apre quando uno trova un fratello una sorella e si fa mettere in discussione allora viene fuori meglio di sé quando uno si mostra fragile allora uno trova la sua forza ma abbiamo i lustri per i cessori cioè da 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 tutti grandi i nostri grandi santi erano tutti uomini che a un certo punto hanno scoperto la loro fragilità hanno fatto entrare Dio quindi dentro una grande sincerità secondo me c'è il passaggio obbligato per una vita che poi effettivamente può diventare grande grazie raccogliamo le domande sono state raccolte il pubblico ha mandato un sacco di domande ve le leggiamo ne abbiamo scelte qualche ed una che ci sta arrivando ne leggo una poi dopo decidiamo chi risponde per prima ci sono tante tematiche nuove che la chiesa non affronta e che sono nel dibattito politico e sociale il credente come può colmare questo gap questa è notevole facciamo sempre no vabbè è chiaro che tanti problemi il credente non è che c'ha tutte le risposte da qualche parte cioè capisco forse il libro delle giovani marmotte vi dice niente no ma dice qualcosa beh sono contento pensavo che fosse una roba cioè non è che c'ha il libro delle giovani marmotte in cui trova tutto eccetera oppure come era quello era età beta io quelli che mi ricordo diciamo un po' di qualche anno fa che c'ha tutte quante le risposte no e guardate che qualche volta il mondo dice vuole che uno chiarisca tutto e qualche volta ci sono delle cose che uno fa fatica a chiarire anche di sé di stabilire bene tutto quello così ti spiego bene chi sei senti qualche volta ci toglie pure anche un po' il gusto di capirlo oppure di di aspettare no poi invece certe definizioni allora il credente fa sempre anche un po' la fatica di trovare le risposte e che adesso vi faccio mi hanno fatto una domanda oggi io ho detto se ti non so rispondere la domanda che mi hanno fatto era è giusto o no far parlare se d'accordo o no far parlare Zelensky al Festival di Sanremo io gli ho risposto sentite io l'ultimo Festival di Sanremo l'ho visto che c'erano i giganti adesso una roba di nonno o cose poco più cioè dopo non ho più visto il Festival di Sanremo poi non ho più visto e poi dico non lo so no poi probabilmente se mi ci metto a cercare di capire le ragioni dell'uno dell'altro poi capisco il credente deve sempre fare questa fatica no e la fa non appunto perché c'ha le istruzioni per l'uso ma pieno che cosa farebbe il Signore che cosa mi chiede l'amore del Signore che cosa mi chiede mi chiede quello cosa posso fare e poi uno trova la cosa e e questo sì è una fatica che dobbiamo fare sempre se la facciamo assieme se ci aiutiamo credo che per tutti quanti sarà sempre un po' più facile di trovare le risposte alle tante sfide alle tante domande che ci sono che ci saranno che saranno nuove qualcuno sono sempre le stesse che si cambiano la giacca ma sono sempre le stesse diciamo così altre sono effettivamente dei problemi che uno deve cercare di capire però è bellissimo la fede e la vita la fede non sta da un'altra parte ma mi aiuta a vivere bene e mi fa trovare una vita bella come ha concluso prima Don Alberto mi fa essere me stesso mi fa trovare me stesso e mi fa trovare anche gli altri vuoi che ripeta la domanda? vuoi aggiungere qualcosa? no no mi ricordo credo che la chiesa in realtà penso che abbia già tante risposte abbia già affrontato tante questioni ma proprio a livelli più alti vedo che se c'è un problema è su quanto le risposte e l'approfondimento su tante questioni poi sia in grado di scendere in basso nella coscienza dei credenti quindi passaggi che ci sono verso il basso e quindi questo è un classico problema di distanza fra il magistero l'istituzione e il popolo la gente però credo anche che il contributo principale della chiesa in particolar modo oggi non sia tanto quello di trovare le risposte alle tante questioni sicuramente complesse problematiche della realtà quanto invece sia il contributo a fare le domande giuste alla realtà a interpellare il mondo e a mettere in discussione le risposte che dà il mondo la chiesa forse oggi è chiamata a fare domande per mettere in crisi per mettere in discussione per mostrare un altro punto di vista il magistero più autorevole e dogmatico tante volte è quello laico della società oggi e la chiesa ha tutto il diritto di fare domande perché come mai eccetera eccetera e in un certo senso avere la possibilità di affliggere non so se come diceva qualcuno modificando il testo delle battitudini affliggere i consolati cioè mettere in discussione quelli che pensano di avere le risposte di stare bene di aver già capito tutto dalla vita e da questo punto di vista secondo me possiamo fare ancora molto di più possiamo decidere che come chiesa ci mettiamo a fare le domande giuste al mondo però per fare le domande vuol dire guardare i problemi guardare in faccia la realtà guardare in faccia le persone andare dove stanno loro entrare in un dialogo Gesù faceva tantissime domande alla gente e proprio attraverso le domande sono iniziati i discorsi e i percorsi più interessanti e quindi credo che la prospettiva più più interessante per questo tempo sia quello di iniziare a ricordarci che siamo tutti pensanti tutti non solo i vescovi i cardinali gli uffici del Vaticano ma tutti quanti domande che però non siano dei dubbi che vogliano smontare la posizione degli altri questo lo si fa spesso magari nei confronti della Chiesa le domande che ti faccio sono per mettere in discussione il tuo punto di vista e farti vedere che in realtà non è come dici quando invece occorre proprio fare delle domande che aprono dei percorsi a partire da cui si possa ragionare e magari proprio andare avanti insieme grazie grazie mille entrambi questa è una domanda penso molto concreta attuale che va anche a smontare un po' un'idea che abbiamo a volte di cristianesimo come vita sempre felice contenta ti sei mai arrabbiato con Dio? chiedono questa volta comincia lui allora francamente no no ma per un limite mio cioè io non mi arrabbio mai con nessuno questa è la verità e questo è un limite cioè una ferita mia personale e io faccio fatica ad arrabbiarmi ma perché perché da piccolo sono stato molto ferito e quindi l'idea di poter ferire qualcuno con la mia rabbia mi spaventa mi blocca perché io mi blocco non mi arrabbio mai cerco di capire di essere dialogante di mettere in discussione il mio punto di vista per far entrare meglio dentro di me il punto di vista dell'altro e però questo non vuol dire che allora vada tutto bene nella mia vita anzi tante cose non le capisco non le comprendo però francamente a volte mi arrabbio con me stesso ecco se c'è qualcuno con cui mi arrabbio me la prendo con me ma perché cioè come dire dia di dio è buono a volte non capisco non capisco tutto cioè tante cose della realtà come vanno non le capisco la guerra non la capisco il dolore non lo capisco certe durezze di cuore non le capisco perché la gente accanto a me alla fine anziché andare verso la luce va sempre più verso il basso non lo capisco però non ce la faccio a prendermela con dio mi dico ma io quindi cosa posso fare però questa è la mia esperienza personale grazie dom Matteo io non sono così buono dico subito adesso lo sono diventato il più ma prima quando per esempio quando ero giovane adolescente giovane a me faceva arrabbiare il male è una cosa banale ma succede a tutti cioè no tu non permetti queste cose mi capitò soprattutto la volta che era il papà di un mio amico giovane e questo mio amico era figlio unico e fu la prima volta che accompagnai una persona che che stava morendo e proprio non capivo perché poi questo mio amico il figlio si stava malissimo era proprio disperato perché poi appunto papà poi era giovane era giovane lui era giovane papà eccetera e diceva ma signore scusami ma non fai niente poi insomma te l'ho chiesto te l'ho richiesto insomma ma proprio non 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 prendi per niente sul serio quindi un po' capitava di essere un po' arrabbiati col signore qualcuno poi diciamo sbatteva proprio la porta no per questo per queste cose qui perché perché non mi sta da sentire poi ho capito che in realtà soffriva lui più di tutti quanti noi soffriva lui molto più di me insomma che davvero il signore in realtà ci vuole bene e non è mai lui che manda il male però come dire adesso qualche volta mi viene a dire ma perché non facciamo più cose perché non mandi più segni perché perché gli uomini capiscano perché per per convincere e poi penso che il problema e allora lì arrivo a quello di Alberto e poi penso che il primo problema sono io che se non cambio io e che il signore mi dice tutto poi sono io che devo provare a cambiare aiutare a rendere appunto migliore il mondo però insomma c'è stato un periodo che ogni tanto su alcune cose proprio me la prendevo colpa d'eterno invece appunto forse il padre d'eterno fa il suo mestiere lo fa benissimo insomma sono gli uomini che qualche volta diciamo il mestiere di uomini lo fanno un po' peggio diciamo che proprio non vogliono fare quello che pensano eccetera e poi fanno si costruiscono un inferno grazie questa è una domanda che secondo me ci porta molto sulla realtà gli spunti questa sera sono stati tanti e molto molto interessanti questa domanda ci chiede perché però quando torniamo a casa molti preti non provano nemmeno a cambiare il linguaggio per avvicinarsi ai ragazzi per avvicinarsi ai ragazzi partiamo da Don Matteo perché noi siamo quello che siamo anche poi io penso che che tante volte diciamo i preti certamente prendiamo il discorso di prima devono provare a cambiare il loro linguaggio forse a renderlo più semplice più diretto più personale poi a far capire che in realtà c'è una relazione c'è un legame che i preti non è che stanno su Marte capito poi io penso che in genere tutti quanti i preti in tanti modi cercano di essere vicini e c'è un qualcosa che deve deve muovere tutti e due effettivamente cioè io devo imparare a capire delle cose e dall'altra parte io devo imparare a spiegarle e a condividerle a vivere insieme perché poi forse il vero problema è anche lì che forse dovremmo vivere di più insieme e allora le capiamo insieme perché appunto non è una lezione devo cambiare i modi non so mettere le parole un po' più a me per esempio non so i preti che diano le parolacce oppure che fanno che fanno i piaccioni che fanno no penso che non è che comunino di più a un certo punto non comunino di niente no come quelli che fanno lezioni di teologia non hanno capito ci credo ecco ma soprattutto penso che capiamo le cose quando siamo insieme quando camminiamo insieme quando viviamo insieme quando le cose sono nella nostra vita allora lì le capiamo tutti quanti ed è molto più facile quindi che i preti e non soltanto i preti che poi non è che la Chiesa sono soltanto i preti ma i tanti con cui camminiamo ci se camminiamo insieme se viviamo insieme le cose si capiscono e si chiariscono di più le capiamo nella vita ecco non appunto in astralto e la vera lingua io penso il vero linguaggio è anche molto quello della storia dell'esperienza capito allora lì io posso anche capire delle parole che mi sembravano lontane e capisco che sono molto vicine no e capisco che sono proprio quelle che cercavo anch'io tante volte o al contrario uno capisce perché le sta a sentire perché le vede insieme perché le camminiamo insieme insomma se non c'è la vicinanza se non c'è l'amicizia la comunità è lì che si matura il linguaggio è lì che poi capiamo il linguaggio grazie don Alberto appunto mi collego a questo il punto non è il linguaggio nonostante tutta la pappina che avevo fatto prima sul linguaggio non è il punto il punto è chi è il prete per le persone che ha davanti se il prete assume veramente il suo ruolo nella comunità allora il linguaggio viene di conseguenza il prete è un padre secondo me questo è il vero problema se uno non si sente padre dei suoi figli ma gestore della comunità non gli verrà mai la voglia di assumere un linguaggio per riuscire a comunicare con i suoi figli ogni padre che ha un cuore di padre fa di tutto per riuscire a entrare nel cuore dei suoi figli è risposto anche a cambiare il suo modo di pensare il suo modo di parlare le sue abitudini i suoi schemi quindi questa è la vera difficoltà però d'altra parte chi è che rende padre i padri i figli e quindi il problema non dobbiamo girarlo solamente sui preti il problema va girato dappertutto cioè anche i figli cioè tipo i ragazzi dovete trattare i preti come dei padri innanzitutto che tipo di attese avete nei loro confronti per quali motivo li chiamate per quali motivo li stressate per quali motivo andate a cercarli per quello innanzitutto il resto viene dopo e magari vi rendete conto che ci sono dei preti che magari fanno fatica a sentirsi padri avere un rapporto di paternità intima con voi insomma abbracciateli proponeteli fateli confessare da loro proponete di andare fuori a cena insieme giocate con i giochi di società mandategli le gif su whatsapp cioè fate qualcosa insomma fate in modo che loro si sentano padri se accade questo miracolo che è la cosa più bella di essere preti dal mio punto di vista essere padri allora il linguaggio viene di conseguenza cioè se un prete comunque per dire è anziano è chiaro che non sarà lui il prete che avrà un linguaggio giovane no? ma meno male però se è padre se mi vuole bene veramente se mi ascolta mi dà tempo mi dà spazio si preoccupa di me poi il linguaggio veramente viene di conseguenza grazie altra domanda molti ragazzi in realtà credono in Dio e hanno un forte desiderio di Lui ma si vergognano ad esporsi e a parlare della loro fede per il contesto critico in cui viviamo come fare? Don Alberto allora mi capita di girare parecchio l'Italia e questa è una grande opportunità per conoscere la Chiesa e le persone che compongono la Chiesa e ho scoperto che è pieno di gente santa tantissimi ragazzi santi e sicuramente anche in mezzo a voi ce ne sono molti però vedo anche che il problema è che tutte queste persone sante a volte sono sole e non è possibile essere santi da soli cioè è molto difficile molto più difficile a volte ci sono magari dei contesti parrocchiali ecclesiali che sono un po' castranti sono un po' limitanti sono un po' frustranti per cui uno ha un desiderio uno ci dà tutto il tempo del mondo quando fa l'animatore all'oratore estivo quando fa i servizi durante l'anno però poi quello che gli manca è una cordata di amici con cui vivere tutto questo e il Vangelo d'altra parte ha al cuore anche questa esperienza la fraternità di Gesù con i suoi discepoli cioè la prima cosa che ha fatto praticamente quasi è stata chiamare uno, due, tre, quattro dodici e li ha chiamati amici e hanno vissuto da amici hanno tutto quello che Gesù ha fatto l'ha fatto con loro o cercando di avere un rapporto con loro cioè la fede se non è vissuta se non è filtrata dalla fraternità dall'amicizia rischia di essere insostenibile ma a volte rischia di non essere nemmeno cristiana quindi il modo migliore per la mia esperienza di prendere sul serio il desiderio di Dio delle persone dei ragazzi è prendere sul serio il loro desiderio di fraternità e di amicizia cioè dentro dei rapporti cristiani fraterni di amicizia vera lì accadono le cose più belle io assisto tutti i giorni al miracolo dell'amicizia questo fa la Chiesa cioè laddove due o tre sono riuniti nel suo nome lì c'è veramente Gesù dove due o tre ragazzi santi santi vuol dire che sono quello che sono limitati con tutti i peccati le ferite che hanno però aperti all'azione di Dio si mettono insieme collaborano tipo alleati cioè fanno dei miracoli cambiano le comunità io ho visto i miei occhi comunità cambiare perché due o tre ragazzi santi hanno deciso di pregare insieme condividere il Vangelo su Whatsapp ad esempio andare a parlare col don insieme andare a proporre al don delle cose da fare insieme andare oppure ad esempio creare queste reti di custodia per cui non so dicono da me capita questo che spesso volentieri arriva gente da fuori portata dai ragazzi il mio compagno di classe c'è questo ragazzo che sta male questo che ha una difficoltà lo portano in oratorio dagli altri amici avvisandoli guarda che viene tizio Caio Sempronio che stiamo di vicino perché sta vivendo questa difficoltà e allora si creano delle alleanze d'amicizia che sono la risposta migliore l'interfaccia migliore per un giovane persino quello ateo non credente anticlericale per fare un'esperienza di Dio cioè tu arrivi nei nostri ambienti arrivi nella chiesa trovi dei ragazzi che ti accolgono ti salutano ti invitano a far merenda insieme giocati insieme e poi ti coinvolgono in quello che fanno loro in questo mondo individualista che vive rapporti funzionali dove stiamo insieme perché mi sei utile in un certo senso questa cosa è rara però è la carta della chiesa cioè noi non possiamo vendere niente quello che possiamo proporre è qualcosa che non ha prezzo che è la comunità è gratis è la fraternità e quindi questo desiderio di Dio che c'è fortissimo nei ragazzi io lo vedo sempre soprattutto oggi accompagnato da un desiderio di fraternità e secondo me questo è uno dei più grandi segni dei tempi dovremmo cogliere per capire un po' come essere chiesa oggi grazie Don Matteo desiderio di Dio applauso cioè nella domanda c'è l'idea che intorno ci stanno delle persone che mi impongono di non credere diciamo così a me fa più paura che intorno non non c'è niente non c'è mai che dici sai ci stanno tutti quelli che non credono che se tu credi che non ti tolgono l'amicizia no? la mia paura la mia paura è effettivamente che si fa una grande fatica a credere a capire e qui penso di nuovo che vai ancora ancora a messa non lo so per dire no? se è una cosa bella se io vivo una cosa un'esperienza bella caspita se non ci vado sono contento mi fa piacere faccio una cosa importante bella qualche volta uno fa anche delle cose oggettivamente anche un po' che non che non che non che non che non ti riempiono la vita sostanzialmente no? allora noi abbiamo effettivamente c'è un discorso personale ma non individuale mio ma non da solo e credo che il discorso che faceva della comunità cioè del volersi bene cioè che la fede nel Signore apre sempre agli altri però guardare appunto non ad altri così generici appunto delle persone con cui io mi incontro con cui vivo con cui trovo proprio perché voglio bene al Signore un'amicizia che ha qualcosa di più che dura che va oltre che non è soltanto che poi è fare tante cose anche tutte quelle che capino quelle che della vita di tutti quanti i giorni ma che c'è qualcosa di più sì no credo che e poi penso che in realtà la domanda di Dio è una domanda che tante volte ci hanno più quelli che che non lo trovano che non lo trovano a tutte le età io andai a trovare un professore di latino molto molto anziano e che parlava di Dio di che io non lo trovo e dice io lo cerco e non riesco a trovarlo io ho pensato fra me e me ma se tutti quanti lo cercassero come lo cerca lui veramente penso che vuol dire che il Signore c'è che c'è tanta che c'è la richiesta di dire di trovare delle risposte vere per la mia vita no e delle risposte che che mi aiutano a capire a capire il segreto il senso il futuro le cose che contano per davvero come quelle che abbiamo vissuto con il Covid abbiamo vissuto che stiamo vivendo con la guerra no però la Chiesa e soprattutto comunitario questo sono vita esperienza non poi faccio tutte quante le cose e utilizzo tutti i social diciamo così che Dio non è mica rimasto in remoto eh e Dio è venuto di persona per accendere tutta la comunicazione per utilizzare tutte le comunicazioni e questo è quello che noi possiamo provare a vivere e che credo che quando quando sperimentiamo la vita della comunità della Chiesa come una realtà umana bella piena beh io penso effettivamente che il Vangelo è molto più vivo con le cose che facciamo prima per cui credo sì Dio non è rimasto in remoto se fatto in presenza e perché anche noi ci facciamo presenza e che attraverso anche il nostro voler bene perché ci riconosceranno da come ci vogliamo bene e tanti vedranno qualcosa e se vogliamo bene mi dice ma caspita quelli quanto ci vogliono bene ma perché quelli lì vanno a occuparsi di persone sole no perché vogliono fare delle cose per gli altri perché sono contenti anche la domanda ma perché sono contenti senza tre bottiglie di San Giovese dalle nostre parti andiamo più su quello o su o farsi tutto il fattibile no e sono contenti perché si vogliono bene ecco credo che questo è anche un motivo in più insomma perché dal remoto e tanti vedono la presenza grazie ci avviamo verso la conclusione prima del momento finale abbiamo una domanda che è espressamente per Don Alberto cosa consiglieresti a un giovane che sta cercando la sua vocazione e la cosa un po' lo spaventa e un po' lo gasa ma ha paura di non trovare la via auguri perché no è vero perché il momento in cui la vita inizia ad essere interessante è il momento in cui sei in crisi e nel momento in cui ti senti impaurito e gasato perché ti rendi conto che c'è qualcosa di veramente grosso in ballo la questione della vocazione credo che sia una delle questioni decisive di oggi che andrebbe riproposta sempre di più e il punto è questo in che modo tu vuoi amare la tua vita il tuo corpo la tua mente la tua intelligenza il tuo carisma la tua personalità i tuoi talenti le cose che sai fare in che modo vuoi usarli per amare nel momento in cui rettifichi la domanda in questo senso allora la questione diventa veramente interessante perché non è una questione di cosa guadagno cosa perdo dove mi conviene dove non mi conviene i pro i contro diventa tutto in positivo appunto capisco come io posso funzionare al meglio dentro questa storia e il consiglio più che un consiglio metto davanti una paura allora io credo che la questione vocazionale oggi sia messa a serio pericolo dalle vocazioni che ci sono nel momento in cui davanti abbiamo delle vocazioni credibili preti suore sposi consacrati credibili allora io mi viene voglia di essere così mi viene voglia di provare anch'io a fare la mia parte nel mondo nel momento in cui invece non c'è tanta credibilità davanti a sé ecco che allora è difficile mettersi in gioco in prima persona quindi bisogna andare alla ricerca di testimoni credibili questo assolutamente per me è valso questo e credo che valga da sempre e altra questione importante altro consiglio che darei è quello di fare verità sulle proprie ferite cioè non è possibile fare un discernimento vocazionale serio senza aver capito chi sei da dove vieni qual è la tua storia quali sono le tue ferite affettive perché poi alla fine la questione mi do la vita a chi è Dio o mi sposo tante volte questa domanda qui cioè viene castrata in partenza perché l'affettività è irrisolta quindi proprio non sei manca l'abc dell'amore manca una prospettiva di senso rispetto al proprio corpo e quindi che tipo di discernimento si può fare sul niente quindi la prima questione è scoprire che si è chiamati ad amare in maniera libera a quel punto in che forma siamo chiamati ad amare in maniera libera in che modo io posso mettere a disposizione questa mia vita che dico la parolaccia casta che vuol dire libera dal possesso cioè io vivo e non possiedo la gente in nessun senso non solo dal punto di vista fisico anche psicologico relazionale se io imparo questa castità nei rapporti allora poi ho sgombrato il campo da insidi ostacoli menzogne per capire di fatto come sono chiamato Dio come mi chiama ad amare grazie era per Don Alberto ma si può aggiungere qualcosa io gli direi non aver troppa fritta non fare rapidità di schiacciare subito il tasto non è digitale il cuore digitale ancora non l'hanno inventato e cerchi di parlare con un amico vero con un padre vero e sta sempre a sentire quello che il Signore ti dice e poi la vocazione la vocazione ce l'abbiamo tutti tutti a quella a quell'altro a quello ancora che non lo so tutti mi raccomando proprio tutti quanti e un'ultimissima cosa su quello che diceva Alberto sulla castità che non è possedere che è bellissimo ma è legarsi molto è legarsi eh cioè non possedere non volti l'amore non possiede si vede con quelli che ammazzano la moglie perché non la è più mia ma l'ammazzo perché è mia e non sono pochi eh oppure che 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 esercitano violenza no e se non ci sono io non vale quello non è amore quello è acquisto è è vanità è è è macismo per gli uomini non lo so no e l'alfa com'era l'uomo alfa com'era se non sbaglio era una cosa così maschio alfa maschio alfa eh però non è essere slegati anzi esattamente il contrario perché siccome l'amore lega è un vero legame ed è un vero legame perché non lo posseggo quando deve essere mio c'è qualcosa che non funziona ma il contrario non è tanti slegati cioè in cui tu stai lui e poi c'è qualcosina no proprio legati ci vogliamo bene ci vogliamo proprio bene siamo molto legati ecco comunque la vocazione ce l'abbiamo tutti eh e se la troviamo la troviamo eh beh siamo contenti noi facciamo contenti gli altri perché capiamo perché stiamo qui perché sono qua perché perché e tiriamo fuori il meglio di noi sì grazie grazie mille ora concludiamo con un'inversione dei ruoli perché non saremo noi a fare le domande ma vuoi fare il vescovo? far il vescovo? io sono contento no sarete voi a fare ad in oratorio una domanda all'altro ospite e un augurio anche ai giovani quindi una domanda Don Matteo una domanda a Don Alberto un augurio ai giovani e dopo Don Alberto comincia comincio io Don Matteo domanda a Don Alberto sei contento di avere tanti tanti amici e come li vuoi raggiungere? sono io penso non voglio tirarmela però mi pare proprio di essere molto fortunato ma tanto tanto tantissimo perché mi sono state donate tantissime relazioni forse forse ma anche un po' troppe troppe rispetto a quelle che posso umanamente sostenere infatti questo crea tanti problemi perché poi Whatsapp io ci provo a rispondere ma non ce la faccio a rispondere e la gente se la prende a male però questo mi sta arricchendo tantissimo anche perché poi il Signore attraverso tutta la gente che mi mette accanto tutti i fratelli che mi dona vedo che mi sta dicendo qualcosa cioè ognuno sta nella mia vita come una sorta di indicazione parola consiglio carezza correzione da parte di Dio per me e come vorrei conoscere interfacciarli vabbè intanto io mi rendo conto che sono uno io sono uno ho la mia vita mi muovo nel tempo e nello spazio posso raggiungere tanti attraverso i social però mi rendo conto che non ha senso che io raggiunga tutti però vorrei che tutti fossero in relazione quello che vorrei tanto fare è permettere a tutti di sentirsi uno sentirsi una cosa sola sentirsi parte della Chiesa al di là delle appartenenze che giustamente uno ha tu sei di Bologna tu sei di Milano tu sei di Bari di Roma eccetera eccetera tu sei di quella parrocchia però poi il campanilismo la divisione ha creato è fuori moda non va più di moda oggi vabbè diciamocelo perché perché è da stupidi essere campanilisti in un mondo che invece spinge verso fare le cose insieme e quello che desidererei è che non tanto io sia in contatto con tutti ma che tutti fossero in contatto con tutti questa cosa è la comunione dei Santi però i social oggi permettono in qualche modo di sentire la comunione dei Santi un po' più vicino ecco secondo me mi piacerebbe vorrei che la Chiesa si sentisse un po' più community che è un termine moderno che arriva nel momento in cui la Chiesa a volte secondo me si sente troppo divisa con partimenti stagni che sono la parrocchia la diocese il movimento e a volte ci sono dei conflitti invece siamo una Chiesa siamo un'unica grande famiglia grazie Matteo un augurio un augurio per i giovani l'augurio direi di sperimentare sempre tanto personalmente e assieme la bellezza la tenerezza la forza dell'amore di Dio nella nostra vita in questo mondo grazie Don Alberto è un compito ingrato no scherzo tu sei cardinale sei presidente della CEI quindi sei proprio in alto in alto in alto nei vertici della Chiesa io pensavo l'augurio che augurio è scusami non me lo questa è la domanda la domanda la domanda io penso che da modo con cui i genitori si vogliono bene dipende poi anche il bene che si vogliono i figli dal modo in cui i preti e la parrocchia si relazionano poi dipende anche lo stile di una comunità eccetera eccetera in che modo dall'alto può arrivare una rivoluzione di amicizia di fraternità di rapporti umani proprio fra di voi che siete comunque uomini nonostante abbiate tanti colori addosso abbiate tanti ruoli importanti però siete uomini cioè siete fratelli fra di voi anzi in maniera molto più 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 perché poi la responsabilità che avete nessuno di noi qui la può capire non ce ne rendiamo conto manco io quindi è come dall'alto può arrivare una rivoluzione di fraternità diciamo così per la chiesa ma vivendola penso cioè in realtà nella chiesa l'alto e il basso si mischiano cioè che senso c'ha l'alto se non c'ha il basso che ci facciamo no prima lo dicevi il prete è contento quando qualcuno certo guardo Don Giuseppe Don Giuseppe stasera è contento sta qui con i ragazzi è contentissimo ecco perché la sua vita potrebbe stare ecco cioè l'alto e il basso sono poi qualche volta si cambia vi ricordate che Papa Francesco Gironato dice guardate che Gironato deve stare in mezzo dovrebbe stare anche dietro la gente no cioè sostanzialmente si cammina insieme e poi bisogna essere vivere insieme agli altri pensarsi insieme non da soli imparare a lavorare insieme poi ognuno ha le sue responsabilità questo non è che significa che poi io non mi prendo le mie responsabilità che me l'hanno date ce l'ho mi è chiesto questo lo faccio ma sempre insieme e credo che e la Chiesa non è mai soltanto un problema dei preti questo mi raccomando perché la Chiesa adesso è un po' banale oh ma siamo noi cioè i preti hanno senso perché c'è la comunità e la comunità vuol dire tante cose tante responsabilità tanti che aiutano che rendono bella ricca e tutti quanti noi possiamo far tantissimo per rendere bella viva la comunità per cui per quanto riguarda me penso io sono tanto contento io sono tante persone con cui lavoro insieme che magari mi verrebbe anche di stare anche di più insieme di parlare di più o di soprattutto di essere insieme ma sono molto contento di non mi sento affatto solo ecco direi tutt'altro e e sento un tanto legame di amicizia di comunione appunto che ci unisce e questo è la vera risposta diciamo alla tua domanda uno come fa camminando insieme ed essendo cercando di servire per quello che è che sono io e sono questo qui poi cercherò di cambiare cerco di cambiare qualche volta a una certa età ancora più difficile ci ho parecchio da recuperare però con tutto quello che posso cerchiamo di vivere assieme questo tempo e in questo tempo di servire la presenza di Dio che dà senso al futuro consolazione bellezza alla vita degli uomini grazie grazie chiudiamo con il tuo augurio per i giovani Urca il Signore sicuramente ha messo accanto a ciascuno di noi gli amici che ci servono per poter essere santi insieme se torniamo a casa e ripensiamo alle persone che Dio ha messo al nostro fianco magari facciamo fatica a accogliere immediatamente le persone che ci possono accompagnare nel nostro cammino verso la felicità però il Signore in realtà qualcuno ci ha messo accanto e forse sta a noi aprire gli occhi poterlo riconoscere poter decidere di essere amici di qualcuno perché la Chiesa è fraternità e quindi questo vuol dire che ciascun fratello ciascun figlio è chiamato ad essere fratello è responsabilità di tutti quindi tornati a casa ciascuno nelle proprie comunità se ci torniamo da fratelli desiderosi di stringere legami con altri fratelli desiderosi di condividere esperienze del Vangelo e dell'amicizia con gli altri fratelli allora sicuramente possiamo essere il principio di novità per le nostre comunità grazie a Don Alberto per essere venuto oggi grazie a Don Matteo grazie a Manu grazie a chi ha organizzato l'evento pastorale giovanile la famiglia salesiana e grazie a voi per esserci stati buonanotte a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Grazie.